Questa è la Rock Island M1911 A1 FS ed è una classica government ma adattata al calibro 9x21 Troverete la prova completa della Rock Island nel numero di settembre di Army Magazine Rock Island è un marchio della Filippina Armscore azienda che è stata affiancata dal 1985 dall'Armscore Precision USA con sede in Nevada Si tratta della versione base della gamma di 1911 dell'Armscore e in effetti ricorda molto da vicino la prima Colt 1911 Non abbiamo infatti tutti quei dettagli legati all'utilizzo sportivo di quest'arma a cui siamo abituati Quindi abbiamo una tacca e un mirino di tipo fisso senza riferimenti bianchi per l'utilizzo con luce scarsa Il cane ha la forma classica del 1911 quindi non è scheletrato ma presenta solo la testa zigrinata per non far scivolare il pollice e per il resto è una 1911 al 100% quindi abbiamo la classica sicura dorsale che viene azionata quando si impugna l'arma viene disinserita quando si impugna l'arma e la classica sicura manuale sul lato sinistro che si aziona quando il cane è armato Il pulsante di sgancio del caricatore ha la forma classica rotonda il caricatore è metallico e contiene 9 colpi 9x21 Questa 1911 è integramente in acciaio a parte le guancette che sono polimeriche infatti il peso della pistola è di 1200 grammi Quanto al funzionamento è il classico Colt Browning quindi con la bielletta che viene trattenuta dal perno della leva dell'Old Open questa qui e abbiamo anche il bashing qui che è responsabile del giusto accoppiamento tra canna e carrello L'importatore R.A.Sport di Manerbio che è l'importatore ufficiale dell'Aerok Island in Italia propone questo modello al pubblico a 580 euro Adesso andiamo a vedere come spara in poligono Siamo alla sezione di gagliate del tiro a segno nazionale in provincia di Novara per mettere alla prova questa Rock Island M1911 Nella nostra prova, come al solito misureremo il peso di sgancio dello scatto misureremo la velocità della palla volata e poi daremo un'occhiata alle rosate che avremo ottenuto Con la media di 5 misurazioni il peso di sgancio dello scatto ha un valore abbastanza alto perché è di 2342 grammi Abbiamo sparato 5 cartucce fiocchi e la velocità è di 339 metri al secondo Con la Rock Island M1911 abbiamo realizzato questa rosata utilizzando munizioni fiocchi una rosata soddisfacente poi con l'esercizio si può sicuramente migliorare anche perché queste mire sono di tipo fisso quindi non sportive e bisogna un po' prenderci la mano È una classica M1911 offerta a un prezzo decisamente concorrenziale quindi non c'è altro da aggiungere è una pistola che ha una storia è un fascino che non passa mai di moda